Signore e signori, su quadri di Flavia Mastrella, ecco a voi Antonio Rezza. Ore sei. Sono le sei. Mi sono svegliato con certi muscoletti. Quasi quasi vado a fare footing. Le scarpette ci stanno, i pantaloncini pure. Non ci sto io però. Do vado? Sono le sei di mattina. Do vado? Mi faccio una bella colazione. L'uovo sbattuto ci sta. Io sto più sbattuto dell'uovo. Ma se devo sprecare forze, per rimettermi in forze, tanto vale la paralisi. Potrei studiare. I libri stanno là. Io sto qua. Ma perché devo essere io a fare il primo passo? Sulle undici. Mi preparo un bel pranzetto. La cipolla me sta aspetta a me. Il sughetto me sta aspetta a me. I fornelli aspettano solo che io scocchi la miccia. Ma sono indeciso se dare una bella pitturata alla casa oppure andare a aiutare i bambini poveri del Mozambico. Ma quando so stato male io dal Mozambico non mi è arrivata manco una telefonata. Sono le sette di sera, verme. Mi preparo una bella scenetta. Il sughetto me sta ancora aspetta. Ore ventitré. Comincia a essere stanco. Non me so fermato un attimo oggi. Il letto ci sta. Io ci sto sopra. Non mi sono mai alzato. Mi godo il riposo del guerriero senza aver mai sparato una cartuccia. Ore sette. Le sette. Ho dormito un'ora di più. Tu guarda come non faccio un cazzo manco oggi.